La tragedia di Urbino chiusa la galleria Cagulina e mezzi sequestrati, il rogo forse causato dalle bombole di ossigeno. La posizione dell'ordine degli infermieri non ci sono colpe ma solo persone che stavano cercando di portare a termine il loro lavoro. Salta un trapianto di rene a torretti di Ancona a causa di un errore che ha del clamoroso. Il ministro Abodia Fabriano per la ristrutturazione del pala guerrieri ed il restyling del pala Cesari. Buonasera gentili telespettatori, benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale. Prima pagina del notiziario tutta dedicata inevitabilmente alla tragedia di ieri pomeriggio a Urbino con il drammatico schianto tra il mezzo sanitario partito da Fossombrone ed il bus carico di Ragazzini in gita parrocchiale con gli organizzatori. Il bilancio ormai arcinoto con le quattro vittime ed alcuni feriti lievi tra i passeggeri che hanno respirato del fumo senza gravi conseguenze. Non è stato comunque un semplice incendio ma una vera e propria esplosione deflagrata in pochi secondi anche per quanto raccolto da alcune testimonianze che rafforza l'ipotesi che a causare il tutto siano state le bombole ad ossigeno che rientrano tra i dispositivi di soccorso dell'ambulanza. Intanto galleria ancora chiusa e mezzi sequestrati. Vediamo il servizio. E' ancora chiusa la galleria Cagulino lungo la statale 73 bis tra Urbino e Fermignano dove ieri è avvenuto il tragico scontro tra l'ambulanza e il Pullman. Il mezzo sanitario ha preso fuoco e di quattro occupanti l'equipaggio e un paziente trasportato sono morti mentre alcuni dei passeggeri del Pullman sono rimasti lievemente feriti. Sul luogo sono in corsi rilievi da parte della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente. La procuratrice capo facente funzioni della procura di Urbino, Irene Lilio, attende un informativo ufficiale per aprire un fascicolo di indagine. I due mezzi coinvolti sono stati intanto posti sotto sequestro. In corso da parte dei tecnici ANAS tutte le attività tecniche necessarie alla riapertura del tunnel. Si stanno svolgendo i rilievi per accertare i danni subiti dagli impianti elettrici di sicurezza a servizio della galleria, nonché dalla pavimentazione. Una volta ultimate le verifiche sarà possibile valutare gli interventi necessari al ripristino della funzionalità e quindi stimare i tempi di riapertura della galleria. Il traffico resta al momento deviato sul vecchio tracciato adiacente con indicazioni sul posto. Il sindaco di Fossombrone potrebbe proclamare il lutto cittadino per manifestare in modo solenne il dolore della città. Ricordiamo le vittime del tragico schianto Cinzia Mareotti, 49 anni, infermiera del POTES di Fossombrone, Stefano Sabatini, autista soccorritore di 59 anni, anche egli di Fossombrone, il medico albanese del POTES forsembronese, Sokol Ocia, 41 anni, oltre al paziente trasportato sull'ambulanza Alberto Serfilippi di 85 anni. Alcuni parlamentari marchigiani, Giorgio Fedi, René Manzi e Antonio Baldelli hanno sottolineato il gesto eroico dell'autista del Pullman, tra l'altro dimesso oggi dall'ospedale di Pesaro, che è riuscito a mettere in salvo i 47 giovani passeggeri che erano sul suo mezzo ed espresso solidarietà alle famiglie delle vittime. Sulla vicenda sentiamo l'intervento della Presidente dell'Ordine degli Infermieri della provincia di Pesaro, Urbino. Non è il momento delle colpe, sono solo persone che stavano cercando di compiere il loro lavoro. Vediamo il contributo. È importante dire che troppo spesso viene sottovalutato il lavoro dell'emergenza di chi comunque opera direttamente sul nostro territorio sanitario. L'emergenza è qualcosa di particolare, qualcosa che ogni cittadino ne usufruisce nel momento del bisogno. Immaginate quando uno chiama da casa perché magari in preda un ictus, ha un infarto, ha un qualcosa che comunque ti crea difficoltà verso la possibilità di mantenerti in vita. Ecco che parte subito l'ambulanza. L'ambulanza quindi è un qualcosa che deve arrivare in terpi stretti. Prima arriva meglio è. Quante volte parliamo quanto è importante arrivare subito? E quanto è importante la sinergia tra l'infermiere, il medico? Quanto sono importante per poter predisporre un percorso curativo? Quindi è l'insieme di questo lavoro che porta a un risultato. E vedere quanto è successo fa capire quanto erano uniti e quanto era importante soccorrere il paziente. Quindi noi, in rappresentanza naturalmente parlo io, ma di tutti gli operatori sanitari, non ci azzarderemo mai a trarre delle conclusioni. Qui non ci sono colpe. Qui c'è una situazione dove qualcuno stava cercando di portare a termine il proprio lavoro. Quindi per questo noi ci uniamo a queste dolorose perdite. abbracciamo, ripeto, tutti i familiari. Per noi, Cinzia, Stefano e Socol rimarranno sempre degli operatori sanitari super. E la tragedia di Urbino è stata tra l'altro vissuta con grande partecipazione a Grotta Mare, la cittadina da cui è partito il pullman con i chierichetti e gli accompagnatori. Betto Marinangeli ha sentito per noi il sindaco Alessandro Rocchi. Sì, la preoccupazione ieri è stata molto grande quando sono arrivate le prime notizie dell'incidente perché con i nostri ragazzi che era stato coinvolto ci ha fatto passare veramente dei momenti di grande tensione. Poi dopo sono arrivate delle notizie un po' più rassicuranti, quindi che stavano praticamente i ragazzi tutti bene, però è sempre stata una grande tragedia perché sono morte quattro persone e siamo vicini nel dolore ai loro familiari. Ho avuto modo di parlare con un accompagnatore che mi ha tranquillizzato, mi ha detto che avevano vissuto dei momenti veramente di paura e stavano ancora molto tesi quando l'ho sentito anche io. Poi ho parlato con i parroci, pure loro abbastanza scossi per l'accaduto, però fortunatamente per i nostri ragazzi è andata bene. Sono stati molto bravi sia l'autista dell'autobus sia gli accompagnatori che hanno indirizzato i ragazzi a uscire prontamente dal mezzo e poi dalla galleria. Un ringraziamento va anche ai soccorritori che li hanno aiutati in quei momenti, anche al sindaco di Urbino che si è regato sul posto per vedere se stava tutto andando nel modo giusto. Quindi la macchina dei soccorsi comunque è funzionato bene. Proseguiamo con le altre notizie di Cronaca. Un 36 anni italiano senza fissa dimora è stato individuato e deferito all'autorità giudiziaria in quanto ritenuto responsabile di plurimi episodi di furto aggravato in danno di locali pubblici nel centro di Ancona. I fatti risalgono alla scorsa notte quando il malvivente aveva dapprima tentato un colpo in un bar, ma dopo aver infranto la vetrina con un tombino raccolto dalla pubblica via veniva disturbato da un cittadino residente in quel condominio che lo metteva in fuga. Subito dopo si dirigeva verso un altro locale situato a poche centinaia di metri dal primo e con analogo modus operandi infrangeva la vetrina d'ingresso. Una volta entrato si impossessava del contenuto nel registratore di cassa del locale ammontante a poche centinaia di euro. Non soddisfatto in corso Garibaldi asportava diverse stecche di sigarette e biglietti gratte vinci per un controvalore di 3.000 euro. L'uomo riconosciuto attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza è stato bloccato alla stazione di Pesaro. Un 23enne bosniaco condannato ad oltre 5 anni ed 8 mesi di reclusione è stato arrestato il 23 dicembre dai carabinieri di Macerata coadiuvati da quelli della sezione operativa del norm. Il giovane già nota le forze dell'ordine è stato rintracciato e per lui sono scattate le manette per rapina e diverse violazioni alla legge sugli stupefacenti consumata a Tolentino nel capoluogo tra il 2017 e il 2021. Lo abbiamo detto nei titoli incredibile ad Ancona salta un trapianto di rene per un errore che ha davvero del clamoroso. Ci racconta tutto Claudio Comirato. Consegnano un rene ma invece di portare il destra a destinazione portano il rene sinistro. Il fatto è avvenuto sabato 23 dicembre all'ospedale regionale di Torrette dove attorno alle 19 è arrivata una Porsche, un veicolo da oltre 120.000 euro che il Tribunale di Milano dopo un sequestro ha affidato in via provvisoria alla regione Lombardia per il trasporto degli organi. Un bolide a tutti gli effetti che dopo tre ore di viaggio, partenza dall'ospedale di Bergamo, è arrivata alle triagio del pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Ad attendere l'arrivo dell'organo il personale della sala operatoria dove tutto era stato predisposto per il trapianto. Quando gli occupanti della Porsche hanno consegnato il contenitore frigo al personale della sala operatoria, ci si è accorti che proprio in quel di Bergamo, località dove è avvenuto l'espianto, era stato commesso un errore del poco clamoroso. A Dancone, infatti, invece di portare il rene destro, è stato consegnato il rene sinistro. Nessuna responsabilità ovviamente per il personale dell'ospedale di Torrette, né tantomeno per chi ha effettuato il trasporto a cui viene data la destinazione, peraltro riportata sopra la parte superiore del frigorifero viaggiante. Rene che comunque sia è stato portato in sala operatoria, ma che purtroppo non è servito per il trapianto, né tantomeno è stato possibile far arrivare a Dancone il rene destro quello che era stato effettivamente richiesto dal centro trapianti. Un escursionista è scivolato stamattina ed è caduto lungo un ghiaione in località Foro degli Occalione a Genga. L'impatto seguente avrebbe causato all'uomo una sospetta lussazione della spalla sinistra. Immediato l'intervento dell'elisoccorso regionale supportato dalla stazione di soccorso alpino e speleologico di Ancona che ha recuperato l'escursionista che è stato stabilizzato mentre i suoi compagni che avevano attraversato il percorso insieme a lui sono stati riaccompagnati alla macchina. C'è stato uno schianto questa mattina attorno alle 8.30 nei pressi della frazione di Sappanico ad Ancona dove un uomo di 88 anni al volante di una vettura si è scontrato contro un furgone. Sul posto è intervenuto un mezzo della croce gialla dorica che ha provveduto al trasporto dell'anziano al pronto soccorso di Torrette. Al momento le condizioni di salute del ferito non destano particolari preoccupazioni. Una storia natalizia ora non certo edificante che arriva di Ascoli Piceno. Ci sono stati due furti al villaggio dell'Avis in pieno centro cittadino. Il servizio è di Matteo Rossi. A Babbo Natale hanno fatto la festa. In centro ad Ascoli Piceno accade anche questo. Di vandali capaci di rubare un pupazzo del viaggiatore per eccellenza del 24 dicembre e per ben due volte. La semplice ma stupenda installazione alle spalle del Duomo a Piazza Arringo non era saltata agli occhi dei più curiosi. Da anni ormai l'Avis di Ascoli Piceno crea questo piccolo villaggio natalizio per accogliere l'ingresso in piazza. Qualcuno a pochi giorni dal Natale aveva pensato bene di far sparire il pupazzo di Babbo Natale adagiato centralmente sulla sua sedia. Che sia la necessità di un addobbo dell'ultimo minuto? No. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine si è trattato di un atto vandalico. Avis e volontari hanno sistemato la situazione, riposizionando un nuovo Babbo Natale sempre seduto al centro dell'Aiuola, tutto in tempo record per i giorni clou delle festività. Ebbene, proprio nella notte tra il 24 e il 25 dicembre il pupazzo è sparito di nuovo. Per i più piccini magari poteva essere segno del lavoro di Babbo Natale, partito a consegnare i regali a tutti i bambini del mondo. Ma la realtà è ben peggiore. I vandali con il favore della notte hanno ancora una volta sfogato chissà quale maleducazione, rovinando ancora l'installazione. Ad oggi nell'Aiuola con la scritta Avis non c'è più Babbo Natale nella sua sedia. Sicuramente non sono stati gesti degni di un sereno periodo di festa, ma sarebbe bellissimo redimersi e magari riconsegnare Babbo Natale dove deve stare, nella sua aiuola, per l'Avis che da sempre ci ha insegnato che donare e ridonare è sicuramente meglio che distruggere. Ancora una breve di cronaca. Una lite tra due uomini scoppiata ieri sera in un'agenzia di intermediazioni immobiliari di Ancona è culminata nel lancio di una bottiglia aperta di ammoniaca che ha raggiunto un 51enne al volto. L'aggressore è poi fuggito, ma sarebbe stato individuato. Sul luogo la croce gialla e i carabinieri che indagano sull'episodio. L'uomo che era al lavoro nell'agenzia è stato medicato sul posto e poi trasportato all'ospedale in codice giallo. Cambiamo argomento, passi sempre più avanti per il recupero dell'immobile di via Graziani a Fermo, avviata la demolizione dell'edificio che ha ospitato in passato la polstra della Croce Rossa, cui seguirà la ricostruzione nell'ambito della riqualificazione e ristrutturazione che fa parte del programma integrato di edilizia residenziale sociale, finalizzato alla realizzazione di 10 alloggi di housing sociale. Progetto che prevede, oltre alla realizzazione degli alloggi finalizzati all'inclusione sociale, il recupero delle aree a verde e creazione di spazi aperti alla fruizione, l'introduzione di un ascensore che consentirà anche il collegamento senza barriere fra i due accessi, l'individuazione del piano terra per lo svolgimento di funzioni sociali aperta al condominio e dalla comunità di quartiere. Restiamo in tema, una storia esemplare di riqualificazione dell'abitare e rigenerazione della città arriva da un maxi condominio di Monticelli ad Ascoli Piceno. Malio Larocca. Superbonus 110 Sisma, una doppia opportunità per le numerose famiglie del condominio 25 Aprile ad Ascoli Piceno. Questi incentivi governativi hanno consentito al condominio di effettuare interventi di efficientamento energetico, come l'installazione di pannelli solari o il miglioramento dell'isolamento termico e di sicurezza sismica in un territorio così fragile come quello del Piceno. Siamo riusciti a interpretarlo, devo dire, in una maniera abbastanza ottimale perché abbiamo coniugato sia l'aspetto sismico in maniera importante che quello energetico. Molte volte sul centro di oggi si è parlato tanto di energetica, qui c'è un miglioramento sismico con delle strutture molto particolari, sono degli esoscheletri che si leggono in facciata e che quindi danno anche il senso della sicurezza dell'intervento sotto la parte sismica. Abbiamo cercato in più di fare anche un restyling estetico per lasciare un segno e per migliorare anche l'aspetto esteriore delle nostre città. Quindi sotto questo punto di vista siamo soddisfatti di come abbiamo interpretato il 110. Grazie a questa iniziativa le famiglie del condominio potranno beneficiare di una riduzione delle bollette energetiche e contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. Inoltre il super bonus favorirà la valorizzazione del condominio aumentando il suo valore sul mercato immobiliare. Non è stato facile convincere tutti e l'operato dell'amministratore del condominio è stato determinante. All'inizio è stato complicato convincere tutti che questo potesse essere veramente un'opportunità importante per tutti, per il condominio, un palazzo che comunque aveva bisogno di una ristrutturazione da fare sulle facciate. Però soprattutto nei primi mesi appena uscita la normativa, giustamente anche bombardati dai media, dai giornali, da quelle che potevano essere le problematiche derivanti al super bonus, qualcuno ha avanzato giustamente i propri dubbi. Quindi all'inizio rassicurarle che tutto quello che veniva fatto sarebbe stato seguito come previsto dalla norma, scegliere dei tecnici strutturati, quindi lo studio come quello dell'ingegner Laorte, ma anche di tutti gli altri, perché rivolgendosi sia tecnici e imprese serie ci ha permesso, insomma, anche nel dover correre, ma di essere sempre in controllo e in sicurezza per essere sicuri di chiudere il cantiere entro il 31 12 del 2023. Un anno complicato, fatto di luce e ombre, quello con cui si sono confrontate le imprese nel 2023 a causa della situazione internazionale dell'inflazione del caro mutui e nelle aree colpite anche dalle conseguenze delle alluvioni. In questo quadro le associazioni si sono mosse cercando di dare risposte immediate, fornendo un supporto sia in termini di servizi che di rappresentanza delle istanze a tutti i livelli istituzionali. A delineare la situazione che si trovano ad affrontare le micro e piccole imprese dell'Anconetano, Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Impresa Ancona-Pesaro Urbino e il direttore di CNA di Ancona, Massimiliano Santini. Nell'anno che si sta per chiudere, la provincia di Ancona ha perso circa 2000 attività con le sofferenze maggiori nell'autotrasporto, cresce invece il comparto legato al turismo. È sicuramente uno dei più suggestivi presepi viventi della regione, quello che si tiene a Potenza Picena è giunto alla sua 31esima edizione. Mario Giannini. Sono tanti i presepi viventi allestiti nei vari centri delle Marche, ma quello di Potenza Picena ha una location particolare, la Selva dei Frati Minori, all'interno della quale sono state allestite dieci scene per questa 31esima edizione dedicata agli 800 anni del primo presepi vivente di Greccio del 1223, voluto proprio dal Santo di Assisi. Le prime quattro scene sono quelle classiche del Vangelo, mentre le altre sei parlano della vita di San Francesco che culminano con il Cantico delle Creature. Tre saranno gli appuntamenti previsti per visitare il presepe. Il primo, di cui vediamo le immagini, si è svolto il 26 dicembre, con una grande affluenza di pubblico proveniente da molte città delle Marche, e gli altri due il 6 e 7 gennaio, con orari dalle 17.30 alle 20.00. Oltre 200 persone, tutti volontari, tra figuranti e staffe addetto all'allestimento, per un percorso reso unico dalla suggestione e dalla natura stessa della Selva. Questa edizione speciale ha un ulteriore significato spirituale. Solo quest'anno si può ottenere l'indulgenza plenaria concessa dal Papa per chi visita un presepe legato ai frati minori. Altra novità è stata la Messa di Natale, a mezzanotte, nella Selva, usando proprio le ambientazioni del presepe vivente. Un evento, quindi, che promuove la fede e il territorio, e ogni anno attira sempre più visitatori. Il secondo appuntamento della stagione sinfonica al Teatro Goldoni di Corinalda è il concerto di Capodanno, tradizionale come evento, ma del tutto nuovo come format. Il 1 gennaio 2024, alle 21.15, andrà in scena un Capodanno 4.0, che vedrà protagonista la band e il quartetto d'arche della Rossini, assieme a Clarissa Vicky, prima voce solista pop dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Si passerà da Vivaldi a Bob Marley, da Johan Strauss ai Beatles, ed ora la pagina dedicata allo sport. E come detto nei titoli, il ministro Andrea Abodi, facendo seguito ai contatti intercorsi con la Federazione Ginnastica e con il sindaco di Fabriano, ha voluto visionare personalmente ieri il Palacesari, dove si allenano le campionesse di ginnastica ritmica Sofia Raffeli e Milena Baldassarri. Arrivato nello storico Palasport Cittadino, ha incontrato il presidente della Federazione Ginnastica Italiana, Gerardo Tecchi, e il sindaco Daniela Gergo. Il Palacesari è una struttura che era all'avanguardia all'epoca della sua costruzione, ma dopo 45 anni senza interventi necessita di essere ristrutturata, ha dichiarato il sindaco. Ora dovremmo fare uno studio di fattibilità da cui ricavare il computo economico. Non escludiamo che a questo progetto partecipino soggetti privati che possano condividere l'obiettivo di riqualificare il Palacesari. Il ministro Abodi si è poi recato al Palaguerrieri, dove anche alla presenza del progettista Buccione, del legale rappresentante dell'impresa di costruzione, ha tagliato il nastro per dare inizio ai lavori di ristrutturazione del Palasport Cittadino. E passiamo alla delicata situazione societaria in casa Alma Juventus Fano. Non si esclude un disimpegno del presidente russo e sull'argomento è anche intervenuto oggi il candidato sindaco Giuseppe De Leon. Vediamo il servizio. Sono giorni caldi in casa Alma Juventus Fano. Il presidente Mario Alessandro Russo vorrebbe lasciare la presidenza del club per vari motivi. Un amore mai nato realmente con la piazza Granata. E così ecco che a ridosso del mercato c'è l'ipotesi concreta di poter vedere partire diversi pezzi da 90 nello scacchiere di mister Cornacchini. Infatti la società ha comunicato ai calciatori che tutti possono svincolarsi e che per nessuno ci saranno ostacoli di nessuna sorta. Chiaro l'intento di alleggerire il monte in gaggi e magari chiudere la stagione con un gruppo più giovane con il rischio di dover lottare per evitare la burrascosa retrocessione in eccellenza. Sul tema e non solo in mattinata si è espresso anche il candidato sindaco nell'area civica ma riconducibile al centro-destra le prossime amministrative di Primavera di Fano Giuseppe De Leo. Penso che questa squadra meriti qualcosa molto di più. Questa città merite qualcosa di più. Una squadra che possa calcare i campi di una volta e per fare questo occorre una svolta forte in questo senso. Nel caso lei diventasse sindaco cosa ha in mente per questo Fano? Certamente se lui volesse lasciare già ad oggi ci sono diciamo imprenditori importanti che possono entrare diciamo a far parte o a rilevare ancora meglio diciamo la società per riportarla agli albori di prima. Nel suo programma elettorale comparirà anche una cittadella dello sport. Di che si tratta? Certo assolutamente sì perché lo stadio Mancini, il grosso stadio Mancini dove attualmente gioca il Fano Calcio, la Minetus Fano è assolutamente inadeguato. Ormai non è più idoneo rispetto ad altre realtà che stanno andando avanti in modo incredibile, nuovi stadi, nuove strutture. Quindi lì occorre una ricocitura urbanistica che riporti quell'area ad una vocazione che non può essere quella dello stadio ma magari con verde, villette e quant'altro. E lo stadio deve essere una cosa nuova, uno stadio veramente degno di questo nome e quindi la mia idea nel programma elettorale è quella di creare la cittadella dello sport. Nella zona Chiaru c'è un'area enorme di proprietà del comune di Fano e insieme a questo creare anche il palazzo dello sport, quindi parcheggi, attività ancillare, ristorazione e quant'altro. Ed in Serie C la gara Gubbio-Recanatese che non si era disputata lo scorso 17 dicembre verrà recuperata mercoledì 10 gennaio alle 18.30. Matteo Vittorini dovrebbe essere lui il secondo arrivo in casa maceratese in questi giorni di mercato. Il club è bianco-rosso e attivo per rinforzare la rossa e dopo Gomis Dalmatese che tra oggi e domani si legherà alla rata, stesso destino per il difensore 24enne ex Correggese. Poche presenze quest'anno per il centrale difensivo chiuso da profili importanti per la categoria nell'eccellenza Emiliano Romagnola. Ed è tutto per questa seconda edizione del nostro telegiornale, grazie per averci scelto, vi lascio alle previsioni meteo, vi ricordo l'appuntamento di domani con il nostro telegiornale prima edizione alle 12.50. Buona serata. Asset. Acqua. Non sprecarla. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì il contesto sull'Italia continuerà a mantenersi anticiclonico seppur con correnti più umide in ingresso da ovest che favoriranno una maggiore presenza nuvolosa con anche qualche piovasco non escluso. Osserviamo infatti la grafica della nuvolosità che ci mostra come l'Italia sarà interessata dal passaggio di nuvole frequenti associate anche a qualche debole precipitazione soprattutto osservando proprio lo zoom delle piogge in particolare sulla Liguria, sull'Alta Toscana ma a tratti anche verso la Venezia Giulia. Piogge comunque di debole entità. Vediamo quindi il tempo che ci aspetta nel corso della giornata. Avremo una situazione per lo più di stabilità sull'arco alpino seppur con un po' di nuvolosità anche qui ma anche sul comparto adriatico altrove una maggiore presenza nuvolosa con qualche pioggia come dicevo sulla Liguria, su parte della Toscana e Lumbria a tratti anche sulla Venezia Giulia. Tempo asciutto altrove con temperature sempre al di sopra delle medie soprattutto al centro sud. Per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trabi Meteos.